What's on? What's on? Speciale Tosma. What's on? What's on? Bentornati con Onda Quadra, siamo qui con Diego che ci illustrerà la sua azienda Xenia Lab. Sì, la nostra azienda è una delle società nate all'interno dell'incubatore del Politecnico. Ci occupiamo prevalentemente di voice over IP e quindi di applicazioni telefoniche per il mondo web. Un tema oggi di buon interesse. Le nostre applicazioni consentono, ne vediamo qui un esempio, un pulsante che possiamo rendere disponibile per i siti web degli utilizzatori. Consentono di abilitare dei nuovi canali multimediali di comunicazione, fonia, video, chat per il mondo web. Ah, quindi siete anche voi nati nell'incubatore delle imprese innovative del Politecnico. Come è stata questa esperienza? Siamo nati nel 2007 da un business plan presentato all'incubatore. Devo dire che è stata un'esperienza che reputiamo, ed è tuttora, un'esperienza molto positiva. L'approccio con l'incubatore è molto concreto, direi soprattutto negli ultimi anni. Non solo dal punto di vista della ricerca e sviluppo che fa da padrone, ma riteniamo anche di essere una delle realtà dell'incubatore che offre degli spunti anche dal punto di vista marketing e commerciale. Quindi un'azienda con tutti i criteri per far bene sia dal punto di vista tecnico che commerciale sul mercato. Realizziamo ricerca e sviluppo molto applicata per tirare fuori dei veri e propri prodotti, delle veri e proprie applicazioni utili al mercato. Siete quindi un'azienda nuova, torinese, nata da professionisti formati a Torino attraverso il Politecnico. Come è stata l'esperienza di questa edizione 2010 di Tosme per voi? Sì, siamo effettivamente un team di ingegneri laureati, prevalentemente piemontesi. L'esperienza Tosme, devo dire, quest'anno è stata positiva. Anzi, dirò, a differenza di alcune altre fiere di settore in cui abbiamo partecipato negli ultimi due anni in giro per l'Italia, vedo che c'è una fluenza piuttosto competente e quindi direi sostanzialmente positiva quest'anno. Bene, grazie mille. Allora Diego, arrivederci. Speciale Tosme What's on?